Direttamente dalla Cameretta Magica, oggi 27 di marzo, benvenuti ad un nuovissimo video. In questo nuovo video faremo un video commemorativo perché comunque proprio oggi, 27 di marzo, sono passati 35 anni esatti dalla morte di Renato Salvatori. Renato Salvatori comunque è stato veramente uno dei più grandi attori del cinema italiano del secolo scorso. Comunque prima di continuare vi voglio subito avvisare che qui si tratta pur sempre di un video commemorativo e quindi non voglio commenti del genere, quando farei nuovi video, quando mi saluterai ad un prossimo video, ci vediamo a Romitz eccetera perché comunque si tratta pur sempre di un video commemorativo e si tratta di cose sempre molto delicate, capito? Comunque tornando a noi, come abbiamo detto prima, Renato Salvatori è stato uno dei più grandi attori italiani del cinema italiano del secolo scorso, vi faccio vedere qualche immagine che comunque aspetta eccola qui una sua immagine era veramente veramente un bell'uomo da giovane e comunque tra i suoi film più famosi possiamo accennare Rocco e i suoi fratelli del 1960 che in questo film c'è anche Alain Delon Poveri ma Belli del 57 I soliti ignoti del 58 poi cos'altro possiamo accennare tra i suoi film più famosi io, mamma e tu le ragazze di Piazza di Spagna del 52 che qui c'è un'immagine di quando era giovanissimo aveva soltanto 19 anni e comunque Renato Salvatori era nato io di Seravezza un paese della Toscana in provincia di Lucca e poi comunque tra i suoi film più famosi abbiamo pure Iolanda la figlia del corsaro nero comunque la sua popolarità l'ebbe iniziata a verla con Poveri ma Belli diretto da Dino Risi poi Belle ma Poveri Poveri e Milionari poi altri film famosi che possiamo accennare Ah, l'audace colpo dei soliti ignoti poi I Magliari che tra l'altro lì fu al fianco di Alberto Sordi Era Notte a Roma diretto da Roberto Rossellini La Rem diretto da Marco Ferreri poi Rocco e i suoi fratelli che abbiamo accennato prima diretto da Luchino Visconti e tra l'altro in questo set del film incontrò l'attrice francese Annice Girardot che tra l'altro sposò due anni più tardi e tra l'altro in questo film c'è anche Lendelon di cui ha stretto una una fraterna amicizia poi ha fatto pure alcuni film poliziotteschi tra cui La mia legge e Flick Story poi poi dunque tra i suoi altri film più famosi La Banda dei Carasoli e poi tra i suoi ultimi roli importanti possiamo trovarlo nel film Queimada diretto da Gillo Pontecorvo e La Prima Notte di Quiete del 72 diretto da Azzurlini e comunque fu diretto da diversi registi tra cui tra Rossellini Marco Ferreri Alberto Lattuada Francesco Rosi Luchino Visconti e così via Renato Salvatori fu anche avuto due figli tra cui Giulia Salvatori con l'attrice Annie Girardot e Nils con una tedesca che se non mi ha errato e comunque Renato Salvatori aveva anche due nipoti tra cui una che non mi ricordo il nome e tra l'altro un nipote maschio che si chiama proprio Renato proprio come proprio come il nonno materno che comunque realmente Renato Salvatori si chiamava Giuseppe e non Renato quindi non so perché comunque decise di cambiare il nome da Giuseppe come attore da Giuseppe a Renato comunque fu anche doppiato diverse volte tra cui fu doppiato da tendenzialmente da Giuseppe Rinaldi poi è stato anche doppiato da Pino Locchi da Riccardo Cucciolla da Marcello Prando perfino da Nio Manfredi fu doppiato perfino dal grandissimo Ferruccio Amendola e anche da Renzo Palmer fu doppiato fu doppiato anche da Maglio De Angelis Maglio De Angelis che era figlio di Qualtiero De Angelis poi comunque era comunque alto Renato Salvatori un metro e settantasei e comunque purtroppo Renato Salvatori è morto in un'età molto prematura a soli 55 anni il 27 marzo del 1988 di cirrosi epatica perché purtroppo già dagli anni 70 aveva problemi con l'alcol e comunque il corpo è sepolto nella tomba di famiglia al cimitero di Querceta che sarebbe una frazione di Seravezza e comunque mi piace sarebbe bellissimo magari se dovessi capitare da quelle parti gli andrò a rendere omaggio e sicuramente la sua tomba la filmerò e comunque vi tengo a precisare che sulla tomba di Renato Salvatori non c'è scritto il nome d'arte cioè Renato ma il vero nome Giuseppe che dire e niente ci vediamo alla prossima